Cari ragazzi, questo è il vocoder. Questo è il nostro vocoder. Ora selezionerò alcune voci per voi. Questo per esempio è uno dei vocoder selezionati. Questo è in mezzo molto filtrato. Questo è musicale. Questo è musicale. Questo è un vocoder. Questo è un vocoder che cambia la voce in modo incredibile. Questo è un effetto incredibile. Questo è un effetto incredibile. Questo è musicale. Questo è molto musicale. musicale. Questo è musicale. questa è la vostra voce normale. musicale. 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 stickle. creativity search. questa è ancora più robotica attenzione ragazzi non fatemi arrabbiare perché potrei terminare infine c'è questa che è molto musicale per tutti i vostri effetti questa è la voce grazie